La segreteria regionale della Fast Confsal diretta da Bartolo Curia ha proclamato uno sciopro di 4 ore per il 12 novembre prossimo contro il licenziamento dei lavoratori della ASC Edling e chiede l'intervento di tutte le autorità per cercare di tutelare e risolvere il grave problema che stanno vivendo i lavoratori nella sede di Catania. Il sindacato prende protezione nell'ambito dei lavoratori per garantire e tutelare i lavoratori in quanto la ASC ha inteso licenziare i dipendenti e che comunque senza esserci alcuna gravità e problemi di sorta per quanto riguarda l'occupazione.